Io come capogruppo di Fratelli d'Italia accolgo pienamente questa proposta di delibera perché poi mi ha portato, sentendo gli interventi precedenti, mi ha portato ad una riflessione un po' di più ampio respiro perché io ho pensato che fino a qualche anno fa il gioco d'azzardo era proibito dalla normativa nazionale per cui non era possibile giocare d'azzardo in tutte le sue forme, poi improvvisamente c'è stata una liberalizzazione per cui tutti possono giocare d'azzardo, quindi c'è stato un proliferare delle varie modalità con cui è possibile giocare. Ho fatto questa riflessione nel senso di dire che noi siamo in una democrazia liberale che consente alle persone di avere un ampio margine di autonomia, anzi si va proprio sempre più in questa direzione, però dall'altro lato si pone in evidenza come molta autonomia a lasciare ai singoli tante volte può creare dei problemi sociali che è difficile affrontare, quindi da un lato lo Stato concede autonomia alle persone ed è giusto che sia così perché le democrazie occidentali sono proprio fondate sulla libertà del singolo individuo, però dall'altro lato questa libertà può essere eccessiva a questa del singolo se non la riesce a gestire, quindi di nuovo lo Stato è costretto ad intervenire per cercare di porre dei limiti a questa libertà. Quindi in questo senso il ruolo credo del Comune sia di fondamentale importanza per guidare le persone nell'ambito di questa libertà che non tutti individualmente sono in grado di gestire e questa riflessione certo poi si espande anche in altri comparti della vita sociale che in futuro saranno sempre più aperti verso principi di libertà che è principio insomma imperante in questo momento storico, culturale, però dall'altro lato si mette in evidenza come una libertà assoluta è pericolosa, quindi la necessità che lo Stato nel concedere le libertà poi intervenga anche per gestirle e regolamentarle. In questo caso il ruolo del Comune in questo contesto, nell'ambito di questi progetti pilota, credo che sia proprio fondamentale per mettere in evidenza questo problema culturale che stiamo affrontando in questo momento storico e a livello italiano, credo più estesamente a livello sociale e delle democrazioni occidentali. Grazie. Buonasera, sono qui rappresentanza del Movimento 5 Stelle, purtroppo il nostro rappresentante consigliere Maurizio Scantecchia non poteva essere qui per impegni precedenti e quindi guardo il suo saluto e anche quelle che possono essere, le scuse per non essere qui presenti personalmente. Noi come Movimento 5 Stelle non potranno non aderire a questa mozione, a questa iniziativa sia per motivi che tutti sappiamo, etici, sia perché il Movimento stesso a livello nazionale come molti di voi pensano è impegnato con un forte contrasto al fenomeno dell'eslotto machine, un fenomeno che, per ribadire le parole delle persone che mi hanno preceduto a parlare prima, è un dramma vissuto anche silenziosamente all'interno delle famiglie. Accendiamo la visione e vediamo frizzi, lanzi e sollanzi su quello che può essere il gioco, su quello che ti può dare il gioco, però in realtà quello che ti dà il gioco, quando magari lo trovi, come ieri, su un messaggero, una madre che perde due figli per andare a giocare le slot machine, li ha lasciati in macchina per ben tre volte e questa è la realtà del gioco del giardo, è il dramma che c'è all'interno delle famiglie, che non è solo economico, è un dramma sociale, pensate solo a chi cresce in una famiglia affetta da l'unovatia, che cosa può passare a un bambino. Quindi noi siamo ben felici di questa iniziativa, siamo pronti a sostenerla, siamo pronti a collaborare con la stesura e quello che sarà il regolamento poi comunale, ma la nostra grande speranza è che lo Stato non lasci i comuni soli ad affrontare questi problemi che sono troppo, troppo gravi. Grazie a tutti e passo la parola a Presidente e a Presidente. Allora, salve a tutti, buonasera a tutti. Io devo dire che questa sera sono veramente felice, contento, perché vedere un trade union delle varie forze politiche di opposizione e maggioranza è raro, è molto raro. E quindi devo dire grazie veramente a tutti voi questa sera di essere qui. E questo trade union ci fa dire questa sera, e io vorrei riprendere una frase che leggo qui sui volantini che anche voi avete lì, non stiamo più a questo gioco. E poi bisogna urlarla questa frase, perché non stiamo più contro il gioco d'azzardo. Basta, è ora di dire riportare ai giovani, e come giovani, scusa Riccardo, non ho perché ho anche tu sei giovane, ma io come Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani, mi sento dire e di riportare ai giovani di trasmettere che cos'è il buon gioco e fargli riscoprire quei giochi vecchi, magari quei giochi dei nostri nonni, che erano molto belli, erano molto divertenti. E ce li siamo completamente dimenticati. Noi giovani li siamo completamente dimenticati. Le tradizioni sono importanti. E io come giovani mi sento di dire torniamo alle tradizioni. Grazie.